Militari del GICO della Guardia di Finanza di Bari, in collaborazione con personale del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata di Roma, hanno arrestato sette persone accusate a vario titolo di usura e distorsione ai danni di un imprenditore edile. Questi hanno avuto il coraggio di denunciare i suoi aguzzini che gli avevano prestato denaro a un tasso di interesse annuo del 500%. Ad un ottavo indagato, l'avvocato Vincenzo Massimo Siani, di 56 anni, di Altamura, è stato imposto l'obbligo di dimora. Il legale è accusato di aver predisposto gli atti per la cessione di un cantiere edile dell'imprenditore agli usurai. I setti arrestati sono il pluri, pregiudicato Cosimo Fortunato, luogotenente del bosso Savino Parisi, suo genero Michele Giuliano Martinelli, 31 anni, Angelo Fortunato, 49, Giuseppe La Firenze, di 48 anni, fratelli Salvatore Francesco e Raffaele Castoro, di 43, 47 e 42 anni. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un milione di euro. Le indagini della DDA sono state avviate dopo la denuncia presentata dall'imprenditore in difficoltà economica che si è detto stanco di essere vittima di episodi di usura e distorsione cominciati da quando aveva chiesto un prestito a Giuseppe La Firenze e ai fratelli Castoro. Dai presunti usurai l'uomo ha detto di aver ricevuto nel tempo 210.000 euro e si era impegnato a restituirne oltre 280.000 titoli di solo interessi con l'applicazione di un tasso che sfierava il 150% su base annua.